video recensioni in un minuto di HTC One Mini 2 il dispositivo è dotato di un display da 4,5 pollici HD una fotocamera frontale da 5 megapixel una posteriore da 13 megapixel con flash led ovviamente foro per le cuffie, per la ricarica doppio speaker boom sound dalla buona qualità anche se volume un pochino basso caratteristiche diciamo hardware processore Snapdragon 400 con una clock di 1.2 GHz 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 128 GB prestazioni in generale del dispositivo buone nonostante l'hardware non così eccessivamente generoso buona la fotocamera che secondo me è migliore e più performante di quella di HTC One M8 non solo però per i megapixel perché comunque scatta veramente delle ottime fotografie Sense sempre comunque al top fluida, molto intuitiva e ben ottimizzata devo dire batteria anche da 2160 mAh mi pare comunque veramente l'autonomia anche molto buona per cui un comparto che va a completare un dispositivo veramente interessante Sì 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 Sì